Foto, Mediaset commenti da parte della conduttrice anche questa edizione del Grande Fratello VIP giunta alla sua conclusione, ma i commenti sul programma e sui concorrenti sono ancora in circolazione. Ilari Blasi, infatti, si confidata con il settimanale Chi, parlando di alcuni dei VIP che per due mesi hanno popolato la casa pispiata della penisola. Nel corso della sua lunga intervista, Ilari Blasi si è lasciata scappare qualche commento. Il primo per Luca Onnestini. Non ha fatto in tempo a chiudere la porta rossa che Gilei stava con un altro. Non mi convince come storia. E non ha convinto il pubblico. Se fosse un amore costruito a tavolino non lo so. La reazione di Luca, in ogni caso, stata elegante. E poi si rifatto tra le braccia di Raffaello Tonon che è uguale uguale a Soleil, all'interno della casa. Infatti, Luca ha trovato un grande amico in Raffaello Tonon e con lui si è creata una sintonia davvero speciale, fatte di risate e dispetti. Barbara D'Urso contro Cecilia e Ignazio. Ancora ripicche. Leggi Paolo Bonolis torna con Music. Tre serate evento con grandi ospiti. Scoprì tra una domanda e l'altra. Stato impossibile non citare i fratelli Rodriguez. Da settimane al centro dei gossip. Geremies era partito con il dito puntato da parti di tutti. Dentro e fuori. Era il fratello di Belen e basta. Geremies ha raccontato la sua vita difficile. Forse ancora non ha trovato la sua nicchia nel mondo. Di lui mi ha colpito che nonostante sia un ragazzo che si accende facilmente. Ha dei gran bei valori. Prima di tutto, il senso di protezione verso la famiglia. Poi la generosite di cuore. Su Cecilia ho sentito dire che non era, è, libera, con Monte. Se n'è fregata delle telecamere e questo. Per le dinamiche dei reality. Haim, un colpaccio. La storia con Moser. Su via. Finiscono i matrimoni. Non può finire un fidanzamento. I modi e i tempi personalmente non mi sono piaciuti. Racconta Hilary Blasi. Antonella Clerici lascia la prova del cuoco. Leggi proprio della vicenda che ha coinvolto Cecilia Rodriguez e Francesco Monte. La conduttrice confessa che non sarebbe mai entrata nella casa per ottenere chiarimenti. Per quanto riguarda l'episodio dell'armadio. Hilary dice, l'errore è fidarsi in toto dei social. In tv molti hanno, pocciato, su questo caso. Ma noi avendo visto da subito il filmato integrale. Sapevamo che poi si sarebbe sgonfiato. Aria fritta. Altro su MSN. La Verit fuori dall'armadio. Mediaset. Sponsorizzato. Offerta a Surface Pro i5 con cover type inclusa a soli 979 invece di 1. 323. 99. Acquista maggiore maggiore. Acquista maggiore maggiore.